Siamo con Elina Rodriguez, appena arrivata a Mondovì. Innanzitutto, bienvenida Elina, immagino che tu sia felice di essere qui. Ciao a tutti, io sono molto felice di essere qui dopo un un po' lungo, ma sono pronta ad arrivare, quindi molto felice. Sei arrivata da poco, domenica ci sarà già il campionato, si affronterà il macerata, sei pronta a scendere in campo? Sì, sono pronta, spero di conoscere tutti i miei compagni, con molti voli di cominciare a giocare. Immagino che ci sia la volontà di fare un grande saluto ai tuoi nuovi tifosi, anche in Argentino, magari. Sì, un saluto molto caldo per tutte le tifosi di Elipi in Mondovì.